Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Quindi impadronisciti di tutti i documenti del nemico Due restanti Oh Mine del cazzo E allora praticamente dobbiamo andare nelle trincee nemiche Se magari ci fosse la corsa in questo gioco Merda Dai corri Corri Fletcher Oh cazzo Ho appena detto qui non c'è niente C'è guarda che violenza Beh oh cazzo No No Ma come Ok quindi Questa è presa Qui c'è un tipo Ho fatto un panzer Merda Fammi un salva però Non ho visto se l'ha fatto Merda Merda Ok Perché è sempre tre Alla volta Quindi Sono tutti fatti con lo stampino Però sti cose Dov'è 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 Oh cazzo Che sbatti Quando fa così Olè Ma Mi ho fatto a non vederlo No raga Aspettate Devo prendere la mia armata Allora Alcuni Yankee hanno scoperto un programma di rifornimenti per unità mobile di V2 Chiamato batterie Il comando vuole che ce ne sbarattiamo I primi lanci sono stati effettuati nel settembre Secondo il comando Da loro sono state lanciate Più di 900 V2 su Londra Isegente Waters e io ci occuperemo prima della contraire Gli altri Poseranno delle mine sulla strada vicino all'area di Adulata Raga quindi questa missione stealth Beh stealth mi cata Tra l'altro lui ha detto io vado avanti lui mi copre Guarda che collatra è questa volta Che razza di texture è sta cosa Aia Waters non ci sei mai quando servi eh Cane non abbaiare Cane cosa c'è Era niente lui e vai Vabbè Guarda dove ho messo quello Ok Eh quando vi mettete così è facile Il problema è quando spuntate da Hop Vita? Sì Perché adesso devo ricaricare Preso Come? Oh Guarda le munizioni che lascio per terra Aspariscono però No come? Oh Ma sei stronzo? Minch c'è lì la granata Vabbè Prima Facciamo fare questi Poi Distruggiamo Il flak Water Water Non sei per niente Aiutativo Intercetta e distruggi i camion Io Io so la mia strada Se vabbè poi Un po' di più contemporaneamente E mo Vediamo dove cazzo sono questi carri Basti camion Bastava sparargli un attimo Non è che C'era chissà cosa da fare Abbott Oh mio dio Veal Vil sarà Vil Veale What? Individua il sito di lancio Dai facciamo questo che basta Eee Molevi E la madonna Cazzo lanci le granate Io scappo Io nel dubbio Scappo Beh Guardalo Ok Ah Rifornisci Di treburanti Razzi V2 Stai tranquillo che li scorreggio addosso A vedere se ne sono No Ci sarà l'apertura qua Sì sì Di qua l'apertura Mi presumo Debo andare di qua Per forza Mamma mia Lo stand Un mostro Merda Merda Finito i colpi Dai dai Oh mio dio Perché ha fatto una capriola Oh oh Aia Quanto è enorme sto bunker Se magari mi salvasse la partita Cosa meno poi spengo Ok partita salvata Raga Ci manchiamo a un prossimo video Che dovremmo far saltare Quindi I razzi E Fungire Quindi Se il video vi è piaciuto Vi invito a lasciare un like Un commento Iscrivervi al canale E noi ci vediamo Un prossimo video Bella Bella